oggi vogliamo parlarvi della funzionalità shadow play del servizio nvidia geforce experience una funzionalità che potrebbe tornarvi molto utile se avete intenzione di catturare la schermata del vostro computer per un video tutorial o un gameplay per un canale youtube dedicato al gaming una volta che avete lanciato il servizio nvidia geforce experience che potete scaricare dal link che trovate in descrizione gratuitamente cliccate su shadow play visualizzerete questa schermata da cui potete scegliere il tipo di audio la qualità dell'immagine la durata della registrazione e la modalità della stessa cliccando su impostazioni potete attivare o disattivare la telecamera o l'immagine che sia di varie dimensioni sulla schermata il contatore degli fps l'indicatore di stato scendendo troviamo la possibilità di decidere se rendere attivo il microfono sempre o solo con la pressione di un tasto scegliere i tasti di scelta rapida per le varie opzioni e il percorso dove salvare la registrazione se questo video vi è piaciuto cliccate sul pollice in alto iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e lasciate un commento con le vostre considerazioni personali con questo è tutto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova video guida un po' Grazie per la visione!